Ciao a tutti ragazzi, sono ZetaGiovi e oggi siamo qui in questo di nuovo breve video per dirvi che sto ritornando cioè alla fine non me ne sono mai andato perché già appena è uscito il video ho cambiato idea perciò... vabbè, dettagli, 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 ok e volevo dirvi che dalla prossima settimana, cioè dal medì, ho intenzione di fare un video ogni giorno per una settimana perciò lunedì video, poi martedì video, codigli video, giovedì venerdì video, venerdì fino a domenica vabbè ragazzi, ci vediamo lunedì, ciao a tutti ragazzi